Un'altra persona nuova ancora in gabbia? Sì, vieni. Cresce di spazio. Aspetta. Allontanami il marrone col colpecino. Lo ti vado su me. Questo qua. Questo bianco. Più bianco e marrone. Vabbè, bianco e marroncino, dai. Voglio andare sul mezzo. Uhuh. E devi farli... Ok. Vince sempre il marrone. Eh, non arrivano. E l'altro è un po' succube. Perché questo qua si fida un po' di più, questo marrone. È più piccolo però, guardalo, è vero. Sì, io penso che è più piccolino. Più piccolo. No, sono magri entrambi. Tieni. Non si nota tantissimo perché c'è il mio pelo, ma è magri. Vengono un po' sparate però qua dentro, la luce fa schifo. Vabbè. Non fa niente, meglio di niente. Perché c'è tutto, poi c'è poi l'alluminio che fa da specchio. Lo so. Questa cosa... Sta scodinzolando. Sta scodinzolando un po'. Eh, e quello bianco e nero non l'avevo ancora visto scodinzolare. Sì, non vuole, niente. Bravo. Allora, sposti, sposti. Emo? Buttai in due, uno dava l'altro, dava l'altro.